Un caloroso bentornati a tutti qui sul Rea Mediterria Perché siamo su Raid Shadow Legends Qui sulla rubrica Level Up dei ragazzi del secondo piano Sulla playlist dedicata proprio a Raid Shadow Legends Allora, andremo a fare un video molto, ma molto, ma molto particolare Perché? 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 Andremo a parlare di un campione, sì Quindi una Champion Review Però stavolta lo andremo anche a provare sul campo Perché sembra d'obbligo andare a provarlo Allora, innanzitutto però, voglio subito dare un cadrosissimo benvenuto Nel mio roster all'ultimo starter È come se adesso ci avessi Burbasaur, Charmander e Squirtle e Pikachu ti è Tutti e quattro, perché è arrivato pure Kyle, finalmente è arrivato Kyle Quindi andremo a fare anche, da una rara poi tra l'altro Andremo anche a fare quindi una, poi, Character Review Quindi una Champion Review Dedicata anche a Kyle, perché no? Prima datemi il tempo di stare sul campo, perché ne avevo già preparata un'altra Ossia, sempre da Free2Play F2P Ossia, un campione che, volente o inolente, a seconda dei vari giorni di accesso che fate Quindi, più effettuate l'accesso, arriverà il giorno in cui vi sarà dato Si Iaga il Famelico Eccolo, eccolo, questa bella, guardate che, che look, proprio all'insegna della pulizia Fresh and clean, guardate, guardate, proprio bellissimo Per nulla Belzebubbelli come Fistoffellico, guardatelo, molto diabolico dai Ricorda le prime rappresentazioni sataniche che c'erano in giro E' orribile dai, è veramente brutto Però, però, però C'è da fare una piccola precisazione Allora, al momento lo possediamo a 5 stelle Quindi con una stella aumentata Senza nessun tipo di elevazione Fin qui Tutto ok Allora, come ho costruito la build di Iaga il Famelico Si può fare in tanti modi Nel senso, lo potreste fare Intanto siamo in pausa caffè Lo potreste fare in diversi modi Ad esempio, o optando per magari la velocità Ma ci sono anche opzioni relative all'avvelenamento ulteriore Rispetto a quello che è il suo avvelenamento normale Perché se andiamo a vedere le destrezze Di Iaga il Famelico Non è un campione malvagissimo Anzi, io lo sto utilizzando al momento Come uno degli attaccanti principali Per andare ad attaccare il boss del clan Perché dico questo? Perché con le sue destrezze Guardate qui, la prima, la basilare Attacca un nemico a un 40% di proprietà di piazzare Un debuff veleno del 5% per due turni Ok 40% uno potrebbe dire che è poco Bene, indi per cui dovreste andare Quanto meno A puntare qualche punto Magari prendendola come sottostatistica principale Volendo dei vostri equipaggiamenti La precisione Perché se la precisione sarà maggiore Della resistenza del vostro avversario Come sempre ricordo nei miei video Ci sarà più possibilità che quel 40% Si attivi Nel senso Che vada a mettere quel debuff In teoria del 5% Attenzione per due turni 5% è il doppio rispetto a un normale avvalenamento Dato da un set mi sembra Quindi attenzione dal set specifico del tossico Quindi in questo caso Un 5% di danno massimo Su un boss del clan Significa non più i 20.000 punti Che andavamo a togliere Grazie ad un set veleno Ma 30.000 Mi sembra 30.000 o addirittura Il doppio Quindi 40.000 Attenzione quindi Attenzione perché Veramente ottimo Poi Facendo un discorso Sempre strettamente legato Al veleno Anche la sua seconda destrezza È legata al veleno Perché attacca un nemico Per due volte Attenzione E Charles Concolpo Ha un 50% di probabilità Di piazzare un debuff Veleno del 5% Per due turni Quindi più alta sarà la precisione Magari potrebbe piazzare Addirittura Due avvalenamenti Con una singola destrezza Quindi non male Tempi di ricarica 4 Non è possibile Purtroppo andare A ridurre questi tempi Di ricarica Però Se andate a dare Tommy destrezza Al compare Il compare Come vedete bene Negli ultimi tre livelli Del progredimento Appunto della destrezza Andrà a beneficiare Di un totale Più 25% Di probabilità Di buff De buff Significa che andrebbe Con ciascun colpo Con il 75% Di possibilità Di andare a piazzare Il veleno Attenzione Non è male Come cosa Poi L'ultima destrezza È marcio Dentro Attacco a nemico Il danno aumenta Il 25% Nei confronti Di obiettivi Sotto debuff E veleno Ok Questo ci riporta A utilizzare Questa destrezza Per ultima E vedete Che è tutto Un damaged Base Significa basato Sul danno Infatti Tutte Tutti i Progredimenti Della destrezza Faranno sì Che aumenterà La percentuale Di danno Già dal livello 4 E dal livello 5 Addirittura Di un 10% Quindi la sua destrezza Più potente Oltre a questo Nel livello 6 Tempi di ricarica Abbassati Perché 5 turni Sono veramente tanti Però Strettamente legata Appunto i danni Sono strettamente legati All'attacco Ok Se andate Fra l'altro A Fare la sua Elevazione Fino alla terza Stella Quindi attraverso Le varie I vari Appunto Le varie pozioni Magiche Eccetera Le peribli Nei roccaforti Avrete Questa aura Sbloccata Che aumenterà La precisione Degli alleati In tutte le battaglie Di 40 punti Significa Che se lui Andasse a beneficiare Della propria Aura Andrebbe A far sì Che sia Molto più Frequente L'abrenamento Delle sue Destrezze Quindi Attenzione 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 Poi Se dovete andare A fare Il set build Basandovi su queste cose Allora C'è poco da fare O Scegliete La via Relativa All'attacco O scegliete Appunto Quindi Due Magari Set di attacco Più Magari Uno Velocità Per dire O Comunque Un set di attacco Un set di precisione E un set di velocità Oppure Potreste andare A scegliere Volendo Un tossico Più magari Un set di velocità O comunque Un set di precisione Forse raccomandata Magari la velocità Per far sì Che attacchi Con più frequenza Ma questo Poi dipende Da come giochiamo Poi Oltre a questo Potreste fare Come ho fatto io Anche Nel senso Andare Ad inserire Un Set di Assorbivita Perché Il set Vampirico Appunto Dell'assorbivita È sempre Molto utile Perché Magari Andando a fare Danno In combinazioni Con destrezze D'attacco Appunto Potrebbe andare A recuperare La propria Vita Ma questo È relativo Io lo faccio Soltanto Per tenerlo In piedi E perché Comunque Questi vari Pezzettini Appunto Qui presenti Vanno sia Ad aumentare L'attacco Sia In percentuale Vabbè Attacco normale C'è un aumento Della precisione Se andate a vedere Che è ottimo Quasi in ogni pezzo Quindi Di conseguenza Mi sembrava Abbastanza buona Come cosa Più Ho preferito Mettere Un Un appunto Un set Crudele Che va a ignorare Il 5% Della difesa Avversaria Proprio per andare A sfruttare meglio Magari L'ultima Destrezza Se il nostro Avversario Appunto Possiede Un Ad esempio Possiede Un avvelenamento Su di esso Con Quell'ulteriore Ignoramento Del 5% Della difesa Avversaria Potrebbe andare A fare ancora Più danno Agli avversari Avvelenati Però Detto questo Ho sbagliato Sicuramente Ma l'unico pezzo Di stivali Che aveva a disposizione Aveva come Purtroppo Come Statistica base Gli hp E quindi Questo è quanto Vabbè Comunque lo sto utilizzando Come debuffere Per andare a piazzare Il veleno Lo andiamo a vedere Adesso Lo andiamo a provare Perché ci sembra Ad obbligo Proprio contro Il boss Del clan Ma prima di andare A provare Il boss Del clan Io direi Di andare Un secondino Nella taverna Per andare A prendere Qualc'altro punto Per il torneo Perché altrimenti Qui rischio Che c'ho uno Che mi sta Corfiato sul collo Che mi recupera Quindi adesso Facciamo Andiamo il nostro Bellissimo Nuovissimo Kyle E lo andiamo Ah No non ci andiamo Non è vero Perché dobbiamo fare Un'altra cosa prima C'hai ragione Gioco Mi ero dimenticato Dov'è 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 Eccolo qui Ok Potenziamo Il grado Del nostro amico Vai Perfetto L'incubus Sarà Sacrificato Già adesso In virtù Del nostro Caro Kyle Dove sei Kyle Doresti essere qui Eccoti Benissimo E andiamo a prendere I tre pezzi Di cibo Necessari Uno Due Tre E ciao Ok Più 50 punti torneo Buono 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 Perfetto E adesso Possiamo andare A vedere Il boss Del clan Clan Boss E andiamo a provare Il nostro amico Abbiamo già combattuto A facile No Non abbiamo combattuto E dobbiamo andare a fare Direi più di un milione Ce la dovremmo fare Dai quindi almeno andiamo Lo buttiamo giù Insieme agli altri Componenti del clan E ci andiamo a prendere Due casse Quanto meno Ok Stiamo andando Come vedete Con Un healer Con Che è Tenasil Poi Con Ve lo mostro Con Elaine Quindi che va a fare Beh da DPS Diciamo Con Errol Che anche lui farà da DPS Con Yaga il famelico Che farà da debuffer E con Tyrell Che fa tutto Perché è il mio Campione preferito Andiamo Quindi abbiamo sacrificato Non abbiamo portato Atele Ma non fa niente Perché Ho portato Lillere Che anche se Il nostro obiettivo È fare danno Perché Vorrei andare Quanto meno A fargli fare Più attacchi possibili Sperando di sfruttare L'avvenenamento Di Yaga il famelico Per mostrarvelo Vabbè Errol come sempre Da solo Porta benissimo Il nostro caro Healer Possiede un set Implacabile Che gli permette Di avere un turno In più A volte Andiamo a piazzare Subito la seconda Vediamo Ok Doppio avvenenamento Come vedete Ottimo Bravissimo Yaga Vai Parte anche Elaine Buonissimo Ok Lui va con il Raggrinzimento Grandissimo Adesso Tyrell Per andare A controllare Il suo E non niente Non gliel'ha messo Il debuff Dell'attacco Va bene Tyrell Errol come sempre Fa male Ci andiamo subito A curare A aumentare la difesa Per far fare più danno Anche a Tyrell Perché è una bella combo Un aumento del 60% Su Tyrell Di cui appunto Le destrezze di Tyrell Il danno è basato Sulla difesa Fa sempre bene Ok Eccolo qui Vediamo se piazza Almeno quello Dell'abbassamento Della difesa L'ha piazzato Attenzione Ok Vai Errol Bene 24.000 Con una destrezza Base E' ottimo Vadi Vadi Prima a piazzarlo Con quella base L'abbrenamento Non ci riesce Peccato Vai Tyrell Bravissimo Riduce attacco E 24.000 E 24.000 Di danno Buono Buono Arti 30.000 Fatti da Elaine Vai Errol 26.000 Come sempre Una bravissima persona Ci stordisce Per forza Lo sappiamo Vai Tenasi L'extra turno Bravissimo Vai Attacca Sì 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 Così Benissimo Piazza Che lo sto veleno Non glielo piazza E niente Allora Iaga Iaga Io volevo Renderti il protagonista Del video Ma guarda che stai facendo Una figura barbina Intanto salutiamo anche Gale of Rome Grandissimo Ciao Ciao a te Allora Ok Resistito Resistono tutti Bene Andiamo a ripiazzare Il Bene L'il La cura Vai un altro attacco Grandissimo Tenasil Che sta sfruttando L'implagabile 35.000 Errol Tu sei sempre Un pezzo avanti Agli altri Bene Uno avvenamento Invece che due Ma va bene È un testa croce No Ok Ultima No Dobbiamo abbassarti il danno Che tu stai iniziando a diventare Molesto No Non ci siamo riusciti Vai Vabbè Dai Se io prendi un altro turno Extra Dai No niente Ok Iaga Vai Mettine un altro Dai Perché non gli metti il veleno Va bene Allora Tyrell Prima abbassiamo la difesa Se ci riesci Non ci riesci Niente Non si mettono più debuff A sto coso Vabbè Dai Ok 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 Vai Errol Tanto Errol Debuff Non debuff Tu i 20.000 Tu li fai sempre Bravo Debuff bloccato Ma non ce l'avevamo dubbi Guarda che bloccavi il debuff Questo non ha bloccato però Mi spiace per te Vai Gliel'ha piazzato E dai Bravo Iaga Vediamo un po' Eccoli 20.000 20.000 Vai così Ok Vadi Col Fran Gielmi Bene 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 Tarello Sempre sturdito Coraccio Vai Incremento difesa Sta sotto veleno Ah un altro turno extra Grandissimo Ok Sta sotto veleno Vediamo quanto danno fai Con marcio dentro 11.000 Sei scarso Va bene Lei non riesce a piazzare il critic Non se sa come ha fatto E c'è il 90% De possibilità De piazzarlo Ma va bene così Ok Riduzione attacco Ancora Ci prova A bloccare Va bene Un altro extra turno Dai che abbiamo ricaricato La testenza della cura Bravissimo E andiamo a ripiazzare il veleno Dai due Mettigliene Uno solo Vabbè Meglio Te incarcio Dove Dove non batte il sole Dai Allora Vai Tyrell Niente Gliel'ha messo il debuff Vediamo se scritica Non scr- Sì scritica A me da Ma vabbè Eh caro mio Ma io mi vado a ricurare ancora Devo aumentare ancora la difesa Vai 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 Ottimo 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 Parecchi danni Eh ragazzi Per un turnetto così Parecchi danni Sarebbe da mandare In Vabbè dai Facciamo lo skip Basta Vai vai così Andiamo velocissimi A commentare Questo Scontro con il clan boss Vediamo quante volte Riesce a piazzare I vari debuff Il nostro Iaga il famerico Tanto Tyrell Ha sbloccato 34.000 De danno Grande Bravissimo Non glielo piazza Però si è ricaricato la vita Vabbè C'è un buon controllo Comunque Da parte dei nostri PG Per tutti questi turni Comunque Dobbiamo dirlo Stanno comportando Oh Ora gliela ha piazzato Stanno comportando abbastanza bene Se ti risurterà lungo Ma era a puro scopo Dimostrativo Perché volevo appunto Farvi vedere Come Diverse combinazioni Possono sì Farvi resistere di più Ma magari andare a fare Anche più danni Perché Gli elementi di cui avevo parlato Poi Per quanto Concerni Appunto Per riguardo A I vari appunto Controlli In termini di Togliere l'attacco Al clan boss Abbassare la difesa Andare ad aumentarci La difesa Creare legami Di ogni genere O sorta Appunto Data Dai nostri I nostri Campioni Tipo magari Un Tenasil Che Con un boost Del 60% La difesa Va a aumentare Non volendo Anche il danno Che va a fare Tyrell Con le sue destrezze Perché Basate appunto Sulla difesa Già possiede Un corposo Valore di difesa Quindi Di conseguenza I danni Non sono pochi Avete visto prima 35.000 Con la sua terza Destrezza Quindi non male Direi Che si possono fare Ulteriori combo Poi volendo Perché ci sarebbe Anche un mega titano Un towering Titan Degli Ogryn Che potrebbe andare Anche lui Ad aumentare Di un altro 60% La difesa Quindi magari Immaginate Con un bonus 120% Al valore Di difesa Di un Tyrell Quanto danno Quanto danno Può andare A fare Sta a voi Creare Appunto Quelle Sinergie Con i campioni Che avete a disposizione Secondo me Comunque Puntare Sul fattore Di aga Il famelico Per andare A fare Più danni Nel tempo Quindi Al nostro Clan Boss Perché Comunque Quegli avvenimenti Rompono Danno Fastidio Guardate Danno Molto Fastidio Perché In termini Di HP Sottratti Si parla In percentuali Di HP Massimi Appunto Del nostro Avversario Il veleno È ottimo Addirittura Fa più danno Lui Per dire Che Le destrezze Magari Di Elayne Con il Critico Quindi Il veleno Una componente Fondamentale Per andare A fare Danni Nel tempo Specialmente Se siete Magari Bassi Come livelli Di attacco Per i vostri Campioni Quindi Io consiglio Come sempre Il veleno Come Starting Point Diciamo Per andare Ad affrontare Il clan Boss Sia Normale Sia Appunto Facile Però Per quanto riguarda Gli ali successivi Credo che forse C'è bisogno Di un'ulteriore Spinta Magari Da Da Determinati Campioni Perché Ricordate Il clan Boss Più è andato Avanti Con i turni Più lui Diventa Distruttivo Già dal decimo Turno In poi Con due Turni Mi one Shutterà Guardate Che cosa Sta succedendo Infatti Fino a poco Fa Non ci faceva Danno Adesso Ci sta Cominciando A massacrare Perché Diventerà Sempre Più Forte Quindi Vediamo Un extra Turno Bravissimo Ah però Questo Tenasil Con il set Implacabile Ti va a fare La differenza Guardate I danni Nonostante La difesa Aumentata Del 60% Vabbè E questo è quanto Dai Ce la possiamo Fare Vediamo Comunque Mi sento Di dire Che Per essere Un regalo Questo Iaga Il famelico Perché viene Regalato Tramite I login Giornalieri Un ottimo Campioncino Specialmente Per chi Magari Non ha Epici Più Mi sento Di dire Che Secondo A seconda Di quanto Effettuate L'accesso Con questi Campioni Che vengono Dati Tutti Insieme Già Si può Andare A fare Una bella Sinergia Perché Poi La stessa A dell'oscura Che tra poco Porterò Mezza settimana Prossima Vi andrà A dare Veramente Con i suoi AOE Una grande Mano Specialmente Nel Farming Della campagna Magari Per dire Però Vabbè Ci ha massacrato Giusto Così Giusto Così Ce ne andiamo Con 2 milioni 450 mila D'anni Va bene Così Ok Bravissimi E Siamo Vabbè Dove stiamo Quello era Quello vecchio L'esperimento vecchio Ok Siamo primi Vabbè Va bene Ma tanto Relativo Ok ragazzi Detto questo Come sempre Per dubbi Domande Perplessità Crise esistenziale Qualsiasi cosa Vogliate Sapere Inerente appunto Raid Shadow Legends Inerenti campioni Trattati In queste Champion Review Che stiamo facendo Per quanto riguarda I tutorial Per quello che volete Qui sotto Nei commenti Vi invito come sempre A sostenerci Iscrivendovi al canale Perché abbiamo bisogno Di voi Per andare avanti Con il canale Poi Come sempre Se il video è piaciuto Mettere mi piace Qualora io non fossi stato chiaro Vi invito a dirmelo Sempre nei commenti Qui sotto Seguitici su Facebook E su Instagram Omonime Pagine e profilo I ragazzi del secondo piano Come sempre Dalla rubrica Level Up Da Stefano Da Raid Shadow Legends Lo dico Lo dico Lo dico E' proprio tutto Ciao